Il diritto aiuta anche a vivere meglio, aiuta a far esplodere i diritti che spesso sono repressi. In queste ore si parla della solidarietà, della fratellanza, dell'uguaglianza e vedere queste immagini così diverse. Una Napoli accogliente, una Napoli di solidarietà, napoletani che fanno a corsa per portare vestiario e cibo ai bambini, alle donne e agli anziani che vengono dalla Libia. E vedere che un'altra parte d'Italia si organizzano per cacciarli ci rende profondamente orgogliosi di essere napoletani in questo momento.